Anche Vico Faro non si lega, nessun dialogo con chi fomenta odio. Al termine della messa della domenica canteremo Bella Ciao. È il post che Don Massimo Biancalani, il parroco di Vico Faro a Pistoia, che da anni si occupa dell'accoglienza ai migranti, ha postato sul suo profilo Facebook. Un post che non solo ha fatto arrabbiare molti che la pensano diversamente da lui, ma anche la diocesi di Pistoia, che si è risentita, tanto che a tale proposito ha diffuso un comunicato stampa. Quanto pubblicamente dichiarato da un presbitero di questa diocesi sui social in questi giorni, scrive la diocesi, ci chiama a dire con molta chiarezza che in chiesa, nelle celebrazioni liturgiche, non si possono eseguire canti inadeguati alla liturgia. Come del resto, il buon senso dovrebbe già far capire. Alla manifestazione pubblica di una posizione non corretta in campo ecclesiale si spiega purtroppo non si può che rispondere con un'altra pubblica e netta presa di posizione di biasimo nei confronti di un comportamento provocatorio assolutamente inopportuno e oltretutto controproducente che arriva, dopo ripetuti richiami, a una maggiore attenzione all'uso dei social. La forza del Vangelo e della preghiera domenicale, conclude la nota della diocesi, parlano a tutti e tutti interpellano. Non hanno bisogno di appendici fuori luogo o di strumentalizzazioni e forzature di qualunque segno politico. Le manifestazioni o le prese di posizione personali richiedono altri contesti e altri luoghi.